Tanto tempo fa, in un salotto lontano, lontano... Jake! Eccomi, tieni queste! Dobbiamo guardare questo! Agli umani piace il golf? Non capisco! Sono scimmie quelle? Mangia i suoi stessi pidocchi! Mi è passato l'appetito! Oh, questo è interessante! Da oggi non saremo più soltanto amici! Jake! Beh, almeno ci ho provato! Guardiamo qualcos'altro! Adesso sì che si ragiona! E One Two Frigo School! Un episodio nuovissimo! Muoio dalla voglia di un gelato! Il primo assaggio non si batte! Ehi! Ma è durissimo! Mi ha anche rovinato il cucchiaio! Stupido cucchiaio! Ehi, amico! Che ti è capitato? Mi sa che sta per lasciarci! Tutta la vita mi sta passando davanti! Dal primo giorno di asilo fino al diploma della maturità avevo tutta la vita davanti! Ricordo il mio primo lavoro! Nessun hamburger poteva resistermi! Ma poi tutto è cambiato quando ho incontrato l'amore! Abbiamo avuto un matrimonio da sogno! Sto per piangere! Oh, il nostro piccolo cucchiaino! Ma tutte le cose belle prima o poi finiscono! Ci vedremo dall'altra parte! Basta! Era troppo commovente! Piangi, tesoruccio! La vita è così effimera! Ma forse ci sarà un lieto fine! Tempo di andare! Beh, cose che capitano! Da oggi lo uso per i cereali! Guarda questo cucchiaio! Così solido e robusto! Quello che ci vuole per il mio gelato! E vai! Come mai non ho pensato subito a te? Perché usare un cucchiaio normale per mangiare il gelato quando puoi usarne uno così super? Proprio delle dimensioni giuste! E ancora meglio! Costa pochissimo! Ma alla fin fine non c'è un prezzo per la perfetta cucchiaiata! Wow! L'affare del secolo, dici? E se ti dicessi che c'è anche lo sconto? Dimentica i vecchi cucchiai! C'è una soluzione migliore! Asciugati quelle lacrime e dai una svolta alla tua vita! Non c'è paragone! È a prova di schizzo! Qualunque sia il gusto con il nostro super cucchiaio potrai goderti qualsiasi gelato! È soltanto per pochi schizzo! E poi... te ne regaliamo altri 8! Gratis! Ci crederesti? Che aspettate, amici? Non lasciatevi scappare quest'affare! Che soddisfazione! Tieni pronta una salvietta per quella colina in bocca! Wow! Potrei passare così tutto il giorno! Non è meraviglioso! E poi ci aggiungo un po' di cioccolata! Ok! Un sacco di cioccolata! Ok, aspetta! Ma quanto ce ne hai messa? Dai! Si vive solo una volta, giusto? Proprio così! Ci mettiamo anche dei canditi? A pioggia! Quel cucchiaio è davvero super! E ha salvato la nostra famiglia! Grazie, super cucchiaio! Che stai aspettando? Acquistalo a un prezzo stracciato! E goditi tutto il gelato che vuoi! Non perdere tempo! Forza! Ok, mi voglio rovinare! Te lo vendo soltanto a un euro! Su, forza! Te lo sto regalando! Possibile che hai ancora dei dubbi! Non ti sto a dire quanti cucchiai ho rovinato! Su, compriamolo! Ah, che maglietta insulsa! Ci sarà qualcosa di meglio da mettermi? Ehi, scegli me! Scegli me! A nessuno piace l'arancione! Ma perché fa tutto così schifo? Devo comprarmi qualcosa di nuovo! Ci voleva un po' di shopping! Ci hai ripensato, eh? Ehi, fa piano, aspetta! Via la roba vecchia! E dentro quella nuova! Ehi, ehi, aspetta! Ancora qualcuna? Si sta stretti qui dentro, eh? Dai, entrate! Aiuto! Oh, chi mi chiama? Ehi, ciao, Rosy! Che si dice? Una volta ero io la maglietta nuova! Ma chi mi indosserà adesso? Nessuno! Eci! No! Sono di puro cotone! Aiuto! Qualcuno mi sente? Io... Io... Che cosa è stato? Qualcuno è caduto? Il mio guardaroba! Era troppo pieno e pesante! Ma che succede lassù? Nessun problema! Arriva l'appendi abiti magico! Fate largo! Sto atterrando! Wow! Non ho mai visto niente di simile! Ok! Su, proviamolo! Chissà come si usa! Che dovrei farci? State in guardia! C'è una ninja in città! Le mie mosse incredibili vi metteranno tutti al tappeto! Su! Forza! Chi sarà così coraggio? Tutti i due mani! Mi sto strozzando! C'è mancato poco! Guarda! Oh, che male! Come arma non vale niente! Forse perché non è un'arma! Ci sarà un modo per usarlo, giusto? Hai tanto, tanto suono! Adesso sì che capisco! Non è un appendi abiti! È un appendi appendi abiti! Ma certo l'ideale! Se hai l'armadio piccolo, potrò usarne più di uno e mettere in ordine tutti i vestiti! Anche in orizzontale, vedi? Niente male, eh? Guarda adesso quanto spazio ho in più! E il guardaroba è al sicuro! E adesso posso scegliere cosa indossare! Ti ricordi di me? Bingo! Oh, sì! Sto proprio bene! Ma che cosa ci faccio con questo? Mi è venuta un'idea! Perché averne una se puoi averne ben nove? E si ripiegano anche! Pollice in su! Che fastidio quando hai l'armadio ridotto così! Ma ecco qui la soluzione! Per soltanto 29,99 il super appendi abiti sarà tuo! Potrai riordinare l'armadio nel modo che preferisci! Insomma, sarà l'invidia di tutti! Ma è più disordine! Risparmia tempo e fatica col nuovo appendi abiti! Avrai tutto lo spazio che vuoi a un prezzo davvero vantaggioso! Se chiami subito ti diamo l'appendi abiti a soltanto 19,99 Telefona subito! È un affarone! Mi sa che ne voglio uno! Sì, è mio! Ne ho sempre sognato uno! Wow! Ehi, aspetta! Non è ancora finito, vedi? Ok! Secondo te che penserebbero gli alieni delle nostre pubblicità? Anche loro vorrebbero un affarone? Condividi il video con gli amici e divertitevi tutti insieme! Questi li hai visti? Iscriviti al canale per non perderti il divertimento!